Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, siamo al settimo turno del campionato del mondo di scacchi e oggi è stata una partita combattutissima. I due hanno utilizzato praticamente tutto il tempo a disposizione, anzi Ding Li Ren a un certo punto è proprio collassato sia dal punto di vista mentale che per il tempo, gli è praticamente scaduto il tempo e questa di oggi è stata una sconfitta veramente pesante per lui, anche perché stava meglio posizionalmente. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok eccoci qui, c'era grande attesa per questa sfida dopo il giorno di pausa, ricordiamoci che Nepo è sempre stato con lui che è passato in vantaggio per primo, Ding Li Ren non è mai stato avanti per ora, quindi abbiamo sempre aspettato una reazione di Ding Li Ren e non di Nepo, quindi da un certo punto di vista sembra più facile per Nepo perché riesce a passare in vantaggio per primo. Nepo gioca con i pezzi bianchi, inizia con pedone 4 e Ding Li Ren gioca pedone E6, difesa francese, dove possiamo dire che se viene giocata a questi livelli allora è sicuramente un'apertura valida. Dopo pedone D4, D5, Nepo sceglie di rientrare nella variante Tarras con cavallo D2. L'idea chiaramente è quella di difendere il pedone in E4 ma invece di cavallo C3 il bianco gioca a cavallo D2 perché almeno con il pedone C se necessario potrà difendere il pedone in D4. Qui Ding Li Ren chiaramente prosegue con il suo piano, con il piano della difesa francese che è quello di spingere in C5 per attaccare la casa D4. Nepo gioca a cavallo F3, sviluppa un pezzo, difende il pedone in D4, segue pedone per D4, cavallo per D4 e cavallo F6. Questa variante è completamente pari, il motore la dà 0.00. Nepo cattura il pedone in D5, Ding Li Ren riprende di cavallo, segue cavallo F3, Nepo apre la diagonale all'alfiere campo scuro. La diagonale dell'alfiere campo chiaro è già aperta, quindi come vedete il centro è già aperto. Il nero anche non ha nessun problema qui. Forse l'unico problema è l'alfiere campo chiaro, quello lo è sempre nella difesa francese perché è abbastanza difficile metterlo in gioco. Dato che qui c'è il pedone in E6, l'alfiere non può venire in G4. E anche fianchettarlo non è semplice perché al momento ad esempio il re è scoperto. Quindi Ding Li Ren gioca alfiere E7, prepara l'arrocco. Nepo continua con alfiere C4, anche lui si prepara ad arroccare. Cavallo C6 per Ding Li Ren e cavallo per C6 da parte di Nepo. Dopo pedone per cavallo, Ding Li Ren qui si crea ben due pedoni isolati. Entriamo di fatto in una posizione nuova, ma sicuramente Ding Li Ren qui si è preparato, non sta giocando a caso, anche perché ha scelto lui di giocare la difesa francese. E poi Stockfish la valuta completamente pari. Qui Nepo mette il real sicuro con arrocco, Ding Li Ren fa lo stesso, arrocca, segue donna E2. Nepo vuole mettere la donna in gioco e prepara ad esempio mosse come torre D1 per attaccare la donna a raggi X. Segue alfiere B7 per Ding Li Ren, sviluppa l'alfiere, alfiere D3, Nepo ritira l'alfiere e attacca la casa H7. Vuole iniziare a impostare un attacco per andare a cercare di dare scacco matto. Donna C7 per Ding Li Ren, collega le torri, Nepo gioca una mossa da principiante possiamo dire. Donna E4, minaccia scacco matto in 1 in H7. In realtà la donna in E4 è veramente molto forte perché può andare da qualsiasi parte. Chiaramente l'idea di Nepo è quella di cercare di attaccare. Qui segue cavallo F6, Ding Li Ren difende la casa H7 e attacca la donna in E4. Nepo porta la donna in H4, come vedete continua a mantenere una certa pressione sull'arrocco del nero. Ding Li Ren prosegue con pedone C5, apre la diagonale all'alfiere e attacca anche il cavallo. Alfiere F4 per Nepo, sviluppa un pezzo guadagnando un tempo sulla donna. La donna si sposta in B6, Ding Li Ren qui attacca il pedone in B2, anche se non è facile catturare questo pedone altrimenti arriva subito torre B1 attaccando la donna e poi catturando l'alfiere in B7. Bisogna fare attenzione. E qui Nepo gioca cavallo E5. Sta cercando di piazzare i pezzi nelle case migliori. A me piace un sacco la posizione del bianco qui, ha un'ottima coordinazione dei suoi pezzi. Però Stockfish la valuta completamente pari, quindi evidentemente il nero non sta poi rischiando così tanto. Ma deve stare attento, deve giocare bene. Ding Li Ren prosegue con torre D8, piazza la torre su una colonna aperta. Nepo continua con torre E1 invece. La sua idea è quella di giocare torre E3, torre H3 e attaccare in H7. Allora Ding Li Ren qui per alleggerire la pressione gioca pedone in G6. Anche perché Nepo stava minacciando mosse come alfiere per H7 scacco, dopo cavallo per donna per alfiere in E7. A un certo punto arrivavano queste mosse. Quindi pedone G6 per Ding Li Ren. Questa mossa si para H7, però si crea delle debolezze sulle case scure. Nepo continua con alfiere G5 e sfrutta subito queste debolezze. Attacca il cavallo in F6. Ding Li Ren allora ha questa mossa, torre in D4. Questa è la mossa migliore. Attacca la donna in H4. Nepo sposta la donna in H3 e Ding Li Ren gioca di nuovo la mossa migliore, ovvero donna C7. Con donna C7 sta minacciando la spinta in C4. Nepo la deve impedire in qualche modo. E gioca pedone B3 appunto. Una scelta molto logica. Ora Ding Li Ren continua con cavallo H5. Vuole cambiare gli alfieri campo scuro. Però Nepo non ci sta al momento e gioca pedone F4. Ora la posizione qui sta diventando veramente molto complessa. Nepo ha 40 minuti di tempo sull'orologio. Ding Li Ren ne ha soli 23. Quindi il tempo inizia a contare sempre di più. Siamo a mossa 21. I due devono giocare ancora 19 mosse affinché gli sia aggiunto ulteriore tempo. Questa mossa è una mossa molto interessante perché sembra che il nero possa giocare F6 ma F6 non funziona. Ding Li Ren di fatto continua con l'alfiere D6. Dopo F6 avrebbe perso la partita perché seguiva donna E6 scacco. Dopo ad esempio Re G7 cavallo G4 e sta per cadere l'alfiere in E7 ma non solo anche l'alfiere in B7 è in pericolo. Ecco perché dopo F4 Ding Li Ren continua con l'alfiere D6 attacca il cavallo. Nepo gioca semplicemente pedone C3 e guardate che posizione pazza che raggiungiamo. La torre sembra intrappolata perché non può andare da nessuna parte eppure il motore continua a valutarla pari questa posizione perché Ding Li Ren ha calcolato ma si sta anche sforzando tanto per calcolare tutte queste varianti. Ora Ding Li Ren si salva con cavallo per F4 attacca la donna. Nepo cattura il cavallo un pezzo gratis praticamente lo catturiamo segue torre per alfiere torre per torre e alfiere per E5. Vedete si semplifica la posizione però in pratica che cos'è successo? Che Nepo ha ottenuto la torre per un alfiere e un pedone. Solitamente la parte che ha l'alfiere e il pedone per la torre non è avvantaggiata anzi si trova proprio in svantaggio però non in questa posizione. Questa posizione è una posizione particolare dove il nero ha la coppia degli alfieri quindi attacca l'arrocco e il re del bianco è anche vulnerabile mentre il re del nero qui non sta rischiando niente. Certo ci sarà una certa pressione sulla colonna H ad esempio il bianco può prepararsi ad attaccare ma in realtà vedremo che il nero ha delle ottime risorse difensive quindi la posizione viene valutata pari. Nepo continua appunto con torre H4 minaccia di entrare in H7 ma Ding Li Ren sviluppa la torre in D8. Con questa mossa sta attaccando l'alfiere in D3 quindi dopo torre per H7 seguirebbe torre per alfiere e non esiste la mossa torre H8 perché segue alfiere per torre quindi non c'è scaccomatto. Allora Nepo sposta l'alfiere in E4, offre il cambio degli alfieri, vuole togliere la coppia degli alfieri al nero, Ding Li Ren cattura in E4, segue torre per E4 e torre D5. Il tempo scarseggia sempre di più, Ding Li Ren rimane con 15 minuti, Nepo con 21 minuti, siamo a mossa 27, entrambi iniziano ad avere dei problemi. Nepo qui ritorna con la torre in H4, vuole giocare torre per H7 ma Ding Li Ren attacca sulla colonna D, vuole entrare in D1 quindi di nuovo torre per H7 non è possibile altrimenti arriva torre D1 e il nero è in vantaggio. Dopo ad esempio torre per D1, donna per D1, vedete che il re è in pericolo, dopo donna C2 scacco sta per cadere il pedone in C3, torre H8 non è possibile perché segue alfiere per H8 quindi qui veramente non c'è niente da fare per il bianco. Allora dopo donna D6 Nepo continua con donna E3, con donna E3 sta attaccando l'alfiere, segue pedone H5 per Ding Li Ren, pedone G3 e alfiere F6. Con alfiere F6 Ding Li Ren sta attaccando la torre in H4, qui il motore addirittura inizia a preferire il nero, il nero ha una posizione molto solida, non ha nessuna debolezza, questo alfiere è fortissimo e ha anche il controllo della colonna aperta. Nepo sposta la torre in C4 attaccando il pedone in C5 e qui il nero ha veramente una buona posizione, la mossa migliore è alfiere in G5 per controllare la casa D2 per attaccare la donna, quindi spostare l'alfiere lungo questa diagonale e poi cercare di entrare con la torre. Non ha nessuna debolezza il nero ma Ding Li Ren gioca H4. Non che questa mossa sia sbagliata, non è sbagliata, però Nepo intanto cattura in H4, guadagna un pedone, Ding Li Ren continua con torre in D2, questa è un'imprecisione, sarebbe stato meglio aumentare la pressione in H2 giocando alfiere in E5 per attaccare il pedone in H2, ma Ding Li Ren continua con torre D2 e Nepo gioca torre E2. Qui abbiamo un grosso problema, Ding Li Ren ha solo 45 secondi di tempo per giocare 7 mosse, mentre Nepo ha 10 minuti e 25 secondi. E allora Ding Li Ren sotto pressione commette un grosso errore in questa posizione, gioca torre D3, con torre D3 però regala il pedone in C5, Nepo lo cattura e Ding Li Ren viene con la torre in D1. Un'altra imprecisione, qui ha calcolato un piano inesistente, un piano totalmente sbagliato, è proprio crollato psicologicamente Ding Li Ren in questa posizione, perché qui non esiste nessuno scacco matto. Re G2 per Nepo, donna in D3 per Ding Li Ren per non cambiare le donne, arriva torre in F2, Nepo inizia a mettere pressione sulla colonna F e Ding Li Ren qui è veramente disperato. Continua con Re G7, vedete quanti errori, c'è stato proprio un collasso, proprio un cedimento da parte di Ding Li Ren, come se non riusciva più a resistere. Ma siamo al settimo turno, voglio dire, ora la pressione psicologica, la fatica mentale, fisica iniziano a farsi sentire. Non è facile, iniziano a farsi sentire per entrambi, solo che appunto Nepo passa sempre in vantaggio contro Ding Li Ren, Ding Li Ren per ora non è mai passato in vantaggio contro Nepo. Sarebbe stato diverso un 4-3 per Ding Li Ren per vedere la reazione di Nepo, però non la vedremo, vedremo invece se Ding Li Ren avrà le forze per riprendersi. Qui segue torre F4, una mossa molto semplice per Nepo, aumenta la pressione sulla colonna F, Ding Li Ren cattura in C3 di donna e poi decide di abbandonare, anche perché questa è una posizione veramente facile da vincere, ad esempio dopo il cambio di donna si può entrare in F7 e il bianco può fare tutto ciò che vuole. Quindi 4-3 per Nepo, si fa sempre più difficile per Ding Li Ren recuperare, abbiamo visto che è sempre stato bravissimo a recuperare, non è mai crollato del tutto perché riesce a ritornare, però chissà, perché più passano le partite più diventa difficile recuperare appunto. Grazie a tutti per la visione di questo video, vi ricordo di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, ciao e alla prossima! Grazie a tutti!